C'è stato il maggiore principio di incendio, principio di incendio che non è stato del tutto ancora, spendo perché si nota il fumo, certo il caldo c'è, la mancata polizia dei terreni, basta una disattenzione, purtroppo succede, succede, ma dobbiamo essere tutti quanti, tutti quanti cittadini, amministratori, volontari, a dare una mano a che si riduca al massimo i danni, si riducono al massimo i danni che può provocare un incendio. Io credo poco in queste nuove teorie dell'autoconvustione, il caldo certo agevola gli incendi perché l'ende arse le terre, quindi l'erba e quindi diventa più facile appiccare incendi, però c'è sempre la mano dell'uomo. O con dolo o con colpa c'è sempre la mano dell'uomo e quindi io attraverso la vostra emittente voglio raccomandare di mantenere altissima la guardia, di non abbassarla e di, soprattutto quando questi incendi scaturiscono per colpa e non per dolo, e di stare attenti, attenti magari anche con le cicche delle sigarette, attenti a mantenere pulito, perché c'è un'ordinanza in tal senso, i vigili poverini girano, la polizia municipale, qui c'è il nostro ottimo comandante, girano per il territorio in continuazione per verificare che si siano tagli di rami che fuoriescono, che le terre vengano tenute pulite, soprattutto quelli al ridosso dei boschi. Ieri abbiamo sfiorato la tragedia, l'abbiamo evitata grazie ai vigili del fuoco, ai carabinieri della forestale, al comando di polizia municipale e al lavoro in defesso dei ragazzi della protezione civile, che ci tengo a ribadire sono un corpo di volontari, cioè sono di cittadini di Castel San Giorgio, che volontariamente prestano servizio gratuito e volontario a favore della nostra cittadinanza. Quindi è importante ringraziarli, premiarli, ma soprattutto è importante che noi cittadini facciamo il nostro. Per l'acqua che dovrebbe servire a spegnere gli incendi, come avete fatto? Non credo che ci siano dei pozzi sui montagni? No, non ci sono dei pozzi, abbiamo un'autocisterna nuova, dovevamo ancora, chiamiamola così, inaugurarla, battezzarla, ma ieri ha avuto il battesimo del fuoco, non a caso, perché ci è servito. E voglio ringraziare anche un'industria conserviera, che ci ha fornito l'acqua, proprio in maniera gratuita, e il nostro ringraziamento è doveroso. È stata una giornata intensa, tra due incendi alle due opposte zone della città, più un ribaltamento di pomodori su una strada in prossimità di un'industria conserviera. Dobbiamo ringraziare i cittadini di Castel San Giorgio, che si sono adoperati sia per la pulizia della strada, quando si è ribaltato l'autocarro, e sia il gruppo volontario, che tengo a precisare, sono dei volontari che si dedicano alla città.